Oggi Calpi siamo nella Rainbow Bow Challenge, poche parole l'arco colorato e la mia fortuna è che come sono otterrato ho trovato un arco blu, un altro arco blu e un arco verde, non ci posso crederci, ragazzi, questo è un segno del destino Calpi, oggi la fortuna è dalla mia parte e qual è il primordiale? Ok, no, questo è il meccanico, quindi io direi di upgradeare il primordiale meccanico e poi il meccanico all'arco viola. Calpi, ma mi spieghi che cavolo è che sta continuando? Eh, non lo so. C'è un altro verde ma non ci posso crederlo, ma che fortuna è oggi. No, no, Calpi, 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 che cavolo è? Vabbè, ok, questo non era il king dei pro player, bisogna essere sinceri, non era proprio il king dei pro player. Calpi, poteva essere al tuo livello, ecco sì, diciamo che è al tuo livello. No, no, sennò sarebbe stato proprio il king dei pro player. Ma come sarebbe stato? Calpi, Calpi, ho detto tuo livello, non mio livello, veramente, ogni volta ti confondi, è una cosa incredibile. No, sei tu che ti confondi. Allora, perfetto, io ho già l'inventario pieno di archi, raga, che è una delle armi che odio di più in assoluto, quindi perfetto. Allora, prendiamo un po' di pezzi meccanici degli auto. Ah, no, Calpi, mi sparano, Calpi. Arrivo, ma dove sono? Sono là dentro a casa, aspetta, 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 dai, vieni fuori, mannaggia te. Vieni fuori, no, Calpi. Arrivo, non ti vedo, non vedo nessuno. Mannaggia, mi continua a sparare, vai davanti a me. Va bene, niente, regà, anche questo. Grazie, Calpi, e complimenti, come al solito. Non me ne stilli una, e via. Vai, Calpi, al taxi, oh mio Dio. Eh, aspetta, devo cercare di sparargli un po' di me. Ecco, no, dovevi far questo. Eh, ho esagerato, scusami. Sì, Calpi, sì, come al solito hai esagerato. Ho notato, 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 notato. Allora, arco primordiale per upgrader. No, posso fare l'arco meccanico blu. Vabbè, ma ne ho 20.000 di archi meccanici blu. Niente, Calpi, mi servono o le granate oppure due shockwave. Eh, le shockwave sono toste da trovare. Sì, le shockwave. Beh, in realtà non è vero, in questa season è pieno di shockwave, Calpi. Beh, è vero, è vero. Allora, che cosa dici che sono toste da trovare? Vabbè, Calpi, oggi sei un po' confuso. Beh, dipende, dipende dalla partita. Sì, 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 sei sempre il solito confuso. Per ora, l'arco verde, in realtà lo teniamo verde, regà, perché non ho calcolato che l'analità verde mi serve. Beh, effettivamente. Io già morivo a pochino di arno in rarità blu, perché lo volevo far fortissimo. Invece, regà, mi serve quella verde. Poi abbiamo... Qui che cavolo c'è? La fiocina. Ma che me ne faccio della fiocina? Mi servono la shockwave, cavolo. Qualcuno che mi dia... Ma chi è? Oh mio Dio, Calpi. Ok, un morto, perfetto. Aspetta, l'altro. No. Bravo. Dov'è? Ok, devo ricaricare il pompa. Calpi, devi darmi un secondo. Eccolo lì. Va bene, ok, grande, Calpi. E un altro arco primordiale. Let's go. Ok, qui abbiamo... Oh, mi basta una tannica, Calpi. Posso fare il fiammeggiante oppure il puzzoletto? Ok, Calpi, faccio il puzzoletto. Vedi qui? Eh, no, basta. Questa battuta l'hai fatta troppe volte. Ma che troppe volte? Mai abbastanza. Non ho fatto più ridere. Allora, vai. Frecce, perfetto. Munizioni, let's go. Calpi, mi sparo, no. Di nuovo da qua giù, ecco lì. Ehi, vabbè. Ehi, vabbè. Scusa, ho stilato un po' troppo. No, 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 ma hai proprio stilato mentre la mia freccia stava partendo questa volta. Cioè, ma l'avevo colpito. Ma che c'è, scusa, il radar delle mie kill? Ma non è vero, ma guarda che non te ne rubo così tante. No, no, no. È una tua impressione. Se ne faccio 10 partita, 11.000 rubi. Ragazzi, ho appena visto questa skin dello shop e voglio assolutamente regalarla ad uno di voi che mi segui sempre e guarda tutti i miei video. Matteo, oggi il regalo da ben 2.000 V-Bucks. Aspetta a te. Mi raccomando, raga, codice, camera, ragazzi, oggetti per essere dei veri capitani. E non dimenticate di iscrivervi al canale. Oh, mio Dio, Calpi. Mi sparo un attimo. Ma quanti cavolo sono qui a parco? Ehi, vabbè. A parte che siamo a lago, non siamo a parco. Allora, qui devo fare un bel edicio. Ok, no, Calpi. Oggi la mia mira è delle migliori. Posso stilartela? No, no. Questa volta direi che te l'ho stilata io. E vabbè, mitraglietta primordiale, ma nessuno che ci abbia una mitraglietta recente, scusa. Ah, ma posso fare una mitraglietta? Ma poi ti servono anche le ossa a te per fare gli archi quelli belli. Allora, in realtà per fare gli archi belli le ossa non mi servono assurdamente a nulla. Calpi. Ti serve l'arco primordiale. Non ci posso credere. Non ci credo. Non ci credo. Questo lo vorrei. Vabbè, ok. Oggi abbiamo capito di quelli lobby. Posso stilare? Almeno questa. No, no, questa no. Dai, questa. Ah, vabbè, per forza. Allora, stavo dicendo. Quelli è il lobby al giro. Sono dei migliori, ma questo è riuscito a scavalcarmi l'auto. Cioè, ha saltato esattamente quando lo volevo investire. C'è, storina qua dentro. Fa vedere un pochettino che cavolo c'è. Merikit è fucile primordiale. Ma il fucile primordiale è esattamente a cosa cavolo serve? Cioè, come faccio? È un'arma. Infatti, ok, ma è inutile secondo me. Ma qual è? Quello pesante o quello d'assalto? No, no, no. Quello d'assalto, dico. Ah, quello d'assalto sì. Non è fortissimo. Non è per niente forte. Signor Calpi, niente sciocco, è vero? No, ancora per il momento nulla. Ancora nulla, ancora nulla. Ok, se trovi una tannica di benzina, io mi accontento anche di quella, sinceramente. Ma penso ci siano qui. Eh, esatto, c'è il benzinaio. Quindi, eh, cavolo, la jeep non la posso prendere. C'è ora un veicolo che posso usare? L'abbiamo eliminati tutti, però guarda qua cosa c'è. Cosa c'è, Calpi? Ah, eccolo, finito. Let's go. Aspetta che prendo, ok, questo taxi era un po'... Problematico. Ma il signor Vetturi, dunque, che cavolo mi fa fare? Mostra personaggi, mostra attiva fenditura. Sì, quella prendi rift, praticamente. Allora, guida per 100 metri, intanto con 100 metri mi dà... Uh, capo, ho trovato un altro arco, arco meccanico. Ok, let's go. Sì, potrebbe servirmi, Calpi, potrebbe servirmi, perché tanto li upgradeo tutti, quindi alla fine cerchiamo di fare tutte le rarità. Arriva la safe, Calpi, non me ne ero accorto. Allora, aspetta un attimo che prendo la tannica e mi faccio intanto l'arco fiammeggiante primordiale. Let's go. E abbiamo già un arco viola. Dov'è il mio arco verde? No, l'arco verde! L'hai lasciato? Non ci credo, dai. Sono proprio il king degli imbecile. Calpi, non ci posso fare niente, ok? Vabbè che tanto, un arco verde sicuramente lo troviamo. Non c'è nessun problema. Uh, Lamborghini, perfetto. Vai Lamborghini! Più veloce della luce Lamborghini! Ma non ti serve a niente la Lamborghini! Vabbè, vai tranquillo che... Vabbè, almeno affettami, almeno affettami. Non serve assolutamente a nulla, proprio a niente. Calpi, qui siamo messi veramente male a livello di arco, perché... Cosa cavolo è successo? È andata un po' per conto suo. Ma com'è possibile questa cosa? Allora abbiamo un arco fiammeggiante primordiale che non posso predare. L'arco... Cavolo, posso fare solo archiviola, quindi mi serve un arco verde, Calpi. L'arco leggendario non c'è su Fortnite, vero? L'arco leggendario penso tu possa averlo, ma potenziandolo dagli NPC una volta già craftati, diciamo. Ah, ok, ok, ok. Però è un po' complicato. Te dici che... Te dici che otteni... Sì. Eh... Ok, complimenti per il volo. Te dici che è ottenibile l'arco leggendario? È ottenibile, sì, però devi avere fortuna a trovare le NPC che potenzia le armi. Io non so dove sono. A parco c'è uno. Allora, Calpi, direzione parco Pacifico, ho trovato le Shockwave! Let's go! Oddio, che fortuna mi faccio il meccanico ad onda d'urto, perfetto. Abbiamo anche l'arco blu, fantastico! E via! Non ci posso credere, Calpi. Allora, oggi mi perderò con tutti gli archi che c'ho dell'inventario, però... Uca, Antonio, sono io, sono Antonio, io sono Antonio, non sono K. Va bene, dove cavolo è? È grande, Calpi, avviso. Eh, ma c'è altro gente, ma oggi sono un po' scarsini, eh? Sto arrivando, sto arrivando, sto arrivando, Calpi. Arrivano, se vedi una barca arrivare, vai tranquillo, che non sono io. È troppo tardi, sono già tutti morti, sono già tutti morti. Ma te mi chiami quando vogliono tutti. Ah, vabbè, c'è altro gente lì, dai. Allora arrivo, allora arrivo, allora arrivo, allora arrivo, vai barchetta! Certo, è che forse non è il posto migliore con cui andare tramite una barca, ecco, però... È una banana, 85. Calpi, la banana è l'arco. Usa l'arco. Grande, Calpi, geniale, geniale, perfetto. Vabbè, tanto qui l'arco non serve nulla. Con la tua mira, secondo me, ci impieghi un po' di zicola. Arco verde! Ottimo, 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 perfetto. Vai, no, Calpi, non è buono l'arco verde. È buono, dai. Ma se sa di legno. Allora, qui mettiamo i due viola, ok, in ordine di potenza abbiamo il meccanico d'onda adulta, il fiammeggiante epico, il raro e l'improvvisato non comune. Posso fare il... no, da improvvisato posso fare il primordiale, però il primordiale non può essere verde, ok, quindi l'unico verde può essere l'improvvisato. Calpi, l'unica cosa che mi manca è l'arco leggendario. Ora, bisogna andare a Parco Pacifico, solo che io non so se è possibile fare l'arco leggendario, devo essere sincero. Eh, devi potenziarlo. Ok, allora, proviamoci. Captei un arco primordiale. Aspetta un secondo, Calpi, vieni qui, dove cavolo, cerchi di scappare, Calpi, Calpi, vieni qui. No, è una rana, è una rana. Oh, cavolo, 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 Calpi davanti a me. Aspetta che glielo fuoco, perfetto. Molto, molto semplice. A parte che si chiamava Captein Saccapousse, ok, questo sarà il mio nuovo nome su YouTube da oggi. Aspetta, cos'è che aveva questo? Uh, Calpi, posso fare il primordiale? Per fare l'arco puzzolente, dici, ok, 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 ho capito, Calpi, vai. Allora, faccio il primordiale, non mi servono le ossa di animali, sto scherzando. Hai le ossa di animali, Calpi? Ehm, no. Ok, complimenti, complimenti, si è molto utile, Calpi, come al solito. Io ho tutto l'inventario pieno di archi. Che io non so minimamente usare. Quindi la vittoria di questa partita, Calpi, è sicuramente... Che tu non hai armi. ...un poco dipendente da me. No, ho solo archi. Eh, ok, è un problema. Ok, intanto siamo 11 kill e la situazione... Direi che sta dando gonfie vele. Se non fosse per il fatto che vi manca un arco leggendario, purtroppo, rica, non esiste l'arco bianco su Fortnite. Anche se per la challenge Rainbow sarebbe molto buono. Che poi questa challenge ha un nome strano, perché si chiama Rainbow Bow Challenge. Rainbow Bow Bow Bow. Rainbow Bow. Rainbow Bow. Calpissone, guarda che cosa c'è davanti. Cosa hai trovato, Parco? Un panino. Gigante. Con una freccia. Mi sa che hai problemi di vista. Quello è un airdrop, cavolo, è un airdrop. Sì, sì. Vabbè, ci sta, capita tutto di sbagliare. Eh, pensavo che fosse un panino. Ragazzi, insomma. Diciamo che ho molta fame, ok? Ultimamente sto mangiando solo... Panini. Eeeh. 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 Uh, però le grazze di onda d'urto non sono. E che cavolo ci faccio con le grazze di onda d'urto, Calpi? Ho già fatto una sciocca. Posso farmi l'arco io volendo. Oh mio Dio, Calpi, aspetta, 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 che qui mi stanno sparando. Il che non mi va per niente bene. Mannaggia, voi venite qui. Niente, Calpi, non l'ho beccato. Dov'è l'NPC che trasforma gli altri? Eh, in quella casa lì, questa. Ah, ok, ok, ho capito, ho capito, ho capito. Qual è quello lì, tipo primordiale? Ok. Allora, calma, vai. No, io intanto uccido i nemici se non ti dispiace. Vai, Calpi. Eh, beh, in realtà mi dispiace, devo essere sincero. Ok. Quale arco fa più male? Credo che facciano tutti lo stesso danno. No, meccanico fa più danno. Primordiale fa meno. Fa un attimo vedere, aspetta un secondo. Allora, quello d'onda d'urto meccanico. Ma perché non me lo fai esaminare? Ah, no, ho sbagliato adesso. Ok, stavo dicendo. Questo qui, fiammeggiante, fa questo danno. Questo qui. Ah, beh, l'onda d'urto fa molto più danno. Eh, sì, ma il meccanico in generale fa più danno. Ah, ok, però l'onda d'urto ne fa un sacco di più. Ma come? Gli ho fatto solo 89? Quanto danno fa, scusa? 89 gli ho fatto, ma com'è possibile? È buono comunque. Ok, è molto buono, certo. Niente male, però adesso non è che mi sto lamentando. Però insomma, pensavo di fargli di più. Calpi, qui ci sono gli scudini in caso tu li volessi. Ce li ho, tranquillo. Però devi andare dalla tizia, sennò come fai a potenziare le armi? E' una femmina? Eh, non lo so, forse non ha un sesso di genere. No, mi sembrava un maschio. Un genere, un po' strano. No, Calpi, vedi che è un maschio, sei proprio un ciegato. Ah, ok, è vero, è vero, mi ricordavo fosse un robot. Si chiama Jones il primo. Allora, fa vedere, raccogli i tipi di arma diverso. Assegna un'arma potenziabile. Cavolo, aspetta. Oh mio Dio! 3, 2, 1. Signori, arco leggendario! Oh mio Dio, Calpi, abbiamo due archi improvvisati che ora voglio trasformare in primordiale. Per fare poi quello primordiale, boh, non lo so, puzzolente, non so, qualcosa del genere. Poi abbiamo l'arco meccanico a donda d'urto leggendario. Oh mio Dio! Ecco, grazie Calpi, complimenti sempre sul pezzo. Il mio non è leggendario ma funziona benissimo. Sì, 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 tanto io ti rubo la macchina e me ne vado. Ciao, Calpi! Eh, no, 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 no! Eh, salvato in corner. Signor Calpi, voglio testare assolutamente questo arco leggendario. Quindi salta a bordo. Ok, guida. Per una volta che ti lascio guidare, Calpi. Ok, spero di non fare danni. Ecco, perfetto, già impegniamo. Partiamo in impegnata, non è un ottimo, un ottimo inizio. Guarda, sono a sinistra, capi? Sono a sinistra, dove stai andando, pilota? Ok. Guarda, non ho sbattuto. Aham, ok, aspetta. Ho un'idea. Vai! È bella questa idea, una delle migliori fino ad oggi. Boom! Capocchio! Oh mio Dio, volta 4! Uh, lo fai pure sbalzare via quando lo hiti. No, 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 vai, hitalo. Eh, che cavolo. Vai, capo! Bello, 180, oh mio Dio. No, vabbè, Calpi. Uccidilo. Calpi, questa cosa è assurdo, Calpi. Oh mio Dio. Oh mio. No, vabbè, regà. Questi archi sono qualcosa di incredibile. 89 all'altro. E l'ho pure fatto volare. Oh, Calpi, c'è un pollo. Ma dove è pollo? C'era. Non è assurdo. Non è assurdo, è vero? No, 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 infatti non è. Era un vero pollo, Calpi, questa volta. Però ha fatto una brutta fine, insomma. Dove è il mio arco leggendario? Viene immediatamente qui. Regà, l'arco leggendario è la rivoluzione. Cioè, è troppo forte. Qui cosa abbiamo? Un primordiale. Ok, che mi prendo al posto di questo verde. Anche se... No, in realtà, regà, il verde è più bello da vedere nell'inventario. Guarda che bello l'inventario. Comunque, ridendo e scherzando, guarda quante persone siamo. Mancano solo gli ultimi due. Infatti. Calpi, aspetta, questo qui. Volevo dire questo. Qui gli faccio uno. Non riesco a beccarlo. 188. Ok, ne manca solo uno. Io l'ultimo, Calpi, direi di trollarlo fino all'ultimo safe. Dove cavolo è l'ultimo, piuttosto? Eh, non lo so, non lo so. Hai delle frecce? Eh, sì, diciamo che credo di essere full di frecce. No, io ho 28, stavo scherzando. Grazie. Calpi, ho visto l'ultimo. È laggiù. Dove? Oh, cavolo. Eh, niente, mi sta sparando. Aspetta, vai, adesso lo puscio. Calpi, facciamo una skybase. Facciamo una... Ok, hai materiali tu. Sì, sì, sono pieno, sono pieno. Ok, ok, allora fai tu. Allora, guarda, ti faccio vedere. Facciamo una skybase, però, editata in questo modo, ok? Quindi, ti dici con un'attima idea, Calpi? Secondo me ci fa cadere. Secondo me ci fa stracadere. Allora, facciamo così. Vai solo tu. A che vado solo io, Calpi? Ma ti pare che io mi sacrifico in questo modo per la patria? Vabbè, allora dammi materiali e vado io. Allora, Calpi, trollo, ultimo safe. Trollo, ultimo safe. Ok, ok. Dobbiamo andare nel cerchio dell'ultima tempesta. Calpi, secondo te quanto faccio l'airdrop? Pochissimo, in realtà. Cioè, pensavo molto di più, però va bene. Vai, Calpi. Distruggiamo l'airdrop. Ma buttiamolo via, buttiamolo giù. Prende fuoco l'airdrop. Ok, no. Eh, non penso prenda fuoco, sinceramente. No, infatti non prende fuoco, non prende fuoco, assurdamente. Via! Vai, Calpi. E io rubo tutto. Comunque c'è il tizio che continua a spararci. Ma che cavolo vuole? Vabbè, Calpi, lascialo sparare. Intanto lutto l'airdrop. Come se fosse utile in questa partita. Che noi abbiamo vinto. Vai, bello lo scudone. Calpi, ho un'idea su come vincere la partita. Calpi, ho un'idea geniale su come vincere la partita. Aspetta un attimo. Rubandoti l'arco argentario. Fermo, 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 fermo. Dov'è? Vieni. È qui. Non ci posso credere. Sono il king. Sì, ok, lo devi attirare dove sono io, Calpi. Attiralo dove sono io. È dall'altro lato, completamente. Ok, ho visto, ho visto, ho visto. Vai, aspetta che lo faccio rimbalzare intanto con l'arco. Ahia, ma che mira. Mi fa un botto di danno. Mannaggia lui. Si, è rimbalzato però. Ok, vai, dov'è? È dentro, è dentro la tempesta. Vai. No. Ho guaiato. Non ci credo. Vai, Calpi. Vai, Calpi, fuori. Fuori sì. Sì, l'abbiamo vinto, Calpi. Let's go. Ok, spera, a meno che non torni. Yes. Vittoria reale. Let's go. Che puoi con quanti che l'abbiamo vinto, Calpi? Un sacco. Io ne ho nove. Nove, ok. Vediamo un pochettino quanti ne ho io. Io ne ho nove, anche io. Buono. Sento questo, ragazzi. Vi ringrazio per l'avvisore. Mi raccomando. Codice capo di negozi oggetti. Solo per i veri capitani. E non dimenticate di iscrivervi. Ciao, ciao.